Ok Chiara evita di giocare con la portaccia che poi il rischio si è romperla Chiara io penso di essermela molto Aspetta 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 Chiara staccare la che va a stare in camera Capipora Ciao a tutti macchiette e macchiettine e benvenuti in questo nostro anzi in questo mio nuovo folle vlog Ebbene sì amici oggi mamma Giulia ha deciso di portarvi insieme a me perché faremo qualcosa che so che a voi piacerà un sacco Chiara e Diego sono ancora a scuola ma oggi farò un video solo con Chiara Perché ho deciso di entrare nella sua palestra per andare a vedere come procedono le prove per il saggio di danza Perché tantissimi di voi me l'hanno chiesto Quindi aspettiamo Chiara, ci prepariamo per andare in palestra per fare le prove del saggio E poi che dire ho intenzione di svelarvi un sacco di cose che vedrete poi al saggio finale Vabbè intanto che dire prepariamoci per andare a danza Ah nel mentre che io vado a preparare Chiara per questa meravigliosa giornata di prove di saggio Ricordatevi che se non l'avete ancora fatto potete andare ad ascoltare la nostra nuova canzone E tempo di goodbye abbiamo superato il mezzo milione con quasi 10.000 like E che dire sono super contenta mi raccomando andate ad ascoltarla e soprattutto condividetela con tutti i vostri amici Vabbè intanto io vado a cambiare Chiara Intanto che aspettiamo Chiara iniziamo a tirare fuori la sua tuta per andare a ginnastica Io direi che questa qua sarà super comoda Ok di solito le mette questa oppure mette questa o questa o l'altra tuta che ovviamente non c'è ancora qua Poi ovviamente in questa borsa ho tutto quello che troverete all'interno del nostro merchandising ufficiale Mamma Giulia figlia Chiara shop.it Che ovviamente trovate nel link qua sotto in descrizione Tutti i completi di mamma Giulia, di figlia Chiara, papà Antonio e figlio Diego Con un sacco di accessori, borraccia, tazza, telomare Comunque un sacco di cose Vai a sbirciare e ovviamente inizia a preordinare un sacco di nostri prodotti Per poterli avere dai primi di maggio super disponibili sul sito Vabbè comunque nel mentre aspettiamo Chiara Perché oggi all'interno delle prove del saggio Vi sveleremo un outfit completo Chissà come mai ma so che a voi piacerà un sacchissimo Vabbè comunque intanto aspettiamo Chiara, si cambia E vedremo lei se ci svelerà qualcosa in anteprima delle prove di oggi pomeriggio Chiara si è chiusa in bagno per cambiarsi e praticamente due ore Wow la mia patatina ma che bella Fatti un po' vedere cosa stai facendo Ti stai mettendo l'illuminante? Ti sono già toccato Ma scusami un attimo ma No vabbè questa cosa non va fatta Voglio un attimo capire Puoi anche stare un po' dietro perché troppo davanti mi fai paura Ma dimmi un attimo Oggi farete le prove del saggio Aia Le prove del saggio Ok tu di solito la spaccata la fai Ma sempre con prima un po' di riscaldamento Vabbè vuoi dirci qualcosa o non vuoi ancora? No non guardate lo specchio parla con me Vuoi dirci qualcosa? Vuoi anticipare qualcosa alle nostre macchiette macchiettine? Yeah Eh dimmi Sono tutta orecchie Anzi siamo tutte orecchie Che nel saggio Si Metteremo i vestiti E stop non si dice E l'unica cosa che non dovevi dire Lo dici Cioè no vabbè Chiara Non è possibile Niente E bit 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 Allora ragazzi se volete acquistare i nostri prodotti Devono andare sul nostro merchandising ufficiale Mgfg shop Mamma Giulia Figlia Chiara Shop.it Ma metto anche il fondotinta negli orecchie brava brava cioè subito subito a danza chiara dove stai? ah vai su? a prepararti la borraccia? allora vengo con te vengo macchietti macchiettine finalmente vi abbiamo accontentato ebbene si dal lunedì 22 aprile in tutte le edicole d'Italia ci potrete trovare con i nostri super clip phone personalizzati troverete tantissime colorazioni diverse e che dire fatemi sapere se vi piacciono anche a voi noi già adoriamo anzi quasi quasi io vi farei vedere un clip phone direttamente mamma mamma aspetta va bene lo farà vedere chiara ecco ti qua chiara ecco fai un po' vedere come si mette il nostro clip phone personalizzato io c'ho una cover ora ok guardate lo apro ok quindi togliamo la carta dal biadesivo quindi è semplicissimo ok ora vi mostro lo andiamo a mettere al centro della cover e aderisce praticamente subito guardate un po' e per sbloccarlo per mettere le dita dovete girarle un po' così dopo un po' si aprirà ok così guardate si può mettere sia così sì così per appoggiare il telefono sia in verticale che in orizzontale sì quindi potrete guardarvi i video comodamente assolutamente anche seduti al tavolo senza aver bisogno di tenere in mano il cellulare ovviamente lo potrete anche mettere nel tablet sì e per richiudere andremo a fare sempre il giro guardate e si richiude in automatico senza dar fastidio vabbè amici mi raccomando fateci sapere qual è il vostro clip phone preferito e ricordatevi che dal 22 di aprile siamo in tutte le edicole d'Italia quindi anche quella più vicino che tu avrai casa prova andare a vedere ed acquistare il nostro clip phone quindi Chiara cosa devono fare devono andare ad acquistare il nostro clip phone ok Chiara evita di giocare con la borraccia che poi romperla cioè hai rotta la borraccia sì che l'hai rotta non si può riutilizzare hai rotta la borraccia cioè hai capito Chiara che hai rotta la borraccia cioè ma veramente delle cose non ti durano devi fare la sciocchina ogni volta ma non si è rotta no si che si è rotta perché adesso così ogni volta perdi gocce d'acqua la metto così la metto così cominciava a scrittura l'hai rotta la borraccia sul sedere si è fatta male ha sbattato il mignolo ora ci godo ora ci godo così invarii tu tieni bevi un po' d'acqua bevi no Chiara Chiara per favore stacca la camera Chiara io penso di essermela rotta aspetta aspetta Chiara stacca la di me la camera sto male sto male sto male che male che male che male che male io penso che si è rotto il dito Chiara guarda come mi si sta gonfiando no amici vi faccio vedere da vedete che mi si sta gonfiando vabbè che dolore vabbè niente ragazzi no taglia veramente non taglia un corno io in realtà stavo facendo vedere quello che tu stavi per fare ma io ho fatto vedere quello che tu hai fatto che dolore che dolore vabbè amici mi sa che il karma mi ha punito perché stavo per far vedere quello che combinava Chiara cioè dopo che ha rotto la borraccia perché ha rotto la borraccia la doveva andare a riempire e mamma Giulia ha preso il mignolino ok su questa sedia vi rendete conto il mignolino si è aperto e andate a infilarsi nella gamba di questa sedia vabbè intanto guardiamo cosa vuole fare Chiara che io ho già paura cosa c'è stress voglio vedere voglio vedere se funziona se funziona aspettate cos'è che deve funzionare no 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 io l'ho già capito Chiara questo era il video che dovevamo andare guarda ecco lo sapevo lo sapevo adesso guarda che vediamo se si stoppa spero che finisca l'acqua si sapeva che si fermava e adesso quando la levi non ho fatto un casino non ho fatto io no vabbè io non ho parole vabbè dai finisci e andiamo a danza dai alla fine addio borraccia abbiamo dovuto cambiare borraccia e prendere quella dell'irap perché la tonna di Chiara alla fine l'ha spaccata vabbè intanto prendiamo la borraccia e andiamo a preparare lo zaino andiamo facciamo scherzo alla mamma per i figli pronti ci sentiamo più tardi per domani mattina ciao capivoracca allora amici ecco qua la borsa per la danza di Chiara e il nostro sacchetto super magico dove all'interno a breve vi faremo vedere i completi che andranno indossare tutte quante le compagne di danza di Chiara per un balletto e ovviamente ragazzi guardate un po' ci sono tutti quanti i nostri clip phone io ho scritto dietro il form iniziale guardate un po' tutti questi clip phone li troverete disponibili da lunedì in tutte le edicole d'Italia vabbè intanto ragazzi dobbiamo andare che siamo in super ritardo anzi è ritardissimo macchiette macchiettine guardate un po' i nostri fantastici libri se per caso non avessi ancora avuto modo di acquistarlo vi consiglio di andare o in tutte le librerie d'Italia dove li potrete trovare entrambi oppure nel link qua sotto in Amazon quindi che cosa aspetti fammi sapere che cosa ne pensi vabbè ragazzi io continuo a leggerli allora Chiara stiamo per uscire di casa e cosa devi fare bravissima metti la cintura mamma Giulia l'ha già messa anche papà Antonio la sta mettendo allora dimmi un po' a citazioni ne abbiamo per le prove del saggio come no è abituata vabbè comunque amici io vi dico una cosa oggi vi farò vedere qualcosa di super epico ma vi rendete conto che solo mamma Giulia può entrare all'interno di una scuola di danza per riprendere le prove del saggio che dovrebbe essere top secret ma mamma Giulia è riuscita un pochino a corrompere l'insegnante che dire abbiamo deciso di entrare di farvi vedere ogni minimo dettaglio delle prove che credetemi sono veramente prove difficili dimenticavo e vedrete in anteprima una super coreografia del saggio perché ce ne saranno quanti ci saranno? 4 ci saranno 4 bambini no ma che 4 bambini 4 balletti diversi e oggi me ne spoileriamo uno interamente quindi non vedo l'ora andiamo a danza finalmente siamo arrivati allo sporting club due ponti situato a Roma dove Chiara si allena dall'insegnante Erika vero delle prove che faranno il gruppo dei grandi vero Chiara? sabato hanno una gara sabato hanno una gara quindi ci faranno vedere qualcosa in anteprima quindi non vediamo l'ora e a breve riusciamo a vedere anche il loro balletto vabbè ragazzi andremo a vedere come sarà ok amici siamo entrate a sbirciare i grandi che sabato faranno Chiara cos'è che faranno sabato? ah una gara scusami brava meno male che si è sempre sul pezzo allora Chiara com'è stato? bellissimo amici vabbè comunque non vi anticipiamo troppo mamma mi stai schiacciando cioè alzati alzati mamma no ti faccio vedere come mi schiaccio così 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 perché voglio vedere così 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 ti piace ti piace vabbè Chiara ha voluto avere un momento di aspetto tra mamma e figlia vabbè comunque adesso a breve andremo a sbirciare invece le prove del saggio di Chiara quindi è un po' agitata Chiara mi sono agitata si si è agitata ma non vedi scherzo sono agitata io al prossimo vero? si allora amici finalmente siamo all'interno della desiderata palestra cui vi abbiamo già parlato vi abbiamo già portato in altri due video nostri anzi come prima cosa essendo che comunque qua camminano tutti i scalzi mamma Giulia ha deciso di togliersi le scarpe così almeno non vado in giro con le scarpe e nel mentre guardate un po' perché ho appena rubato degli attimi tra Carola Chiara e la maestra Erika e vabbè guardate manicomio lo facciamo così lo ripassiamo facciamo così manicomio lo ripassiamo senza musica andiamo un po' di in avanti e poi andiamo in musica manicomio ah e questo mi fa lei cioè Chiara mi sa che tu vai al manicomio te lo dico io vabbè intanto aspettiamo che ci sono ancora altre due di cui una l'avete già conosciuta bene perché ci ami e intanto c'è anche una ragazza invece che si chiama Carol giusto? sì ok bene e poi iniziano le prove allora possiamo sapere i quattro titoli delle delle coreografie che presenterete al saggio si possono dire? solo una se vuoi ah dimmi te l'ho già detto due mamma due o tre allora mi hai detto maleficent poi manicomio e basta e basta quindi i due vanno bene ah ok va bene ciao ecco ecco Carol è arrivata ben arrivata ok è arrivata anche l'altra compagna di classe di Chiara ah intanto la nostra amata Erika l'insegnante che voi già conoscete ma volevo farti una domanda almeno possiamo sapere del manicomio l'acconciatura che andranno a fare le nostre femminucce allora acconciatura del manicomio un po' pazzierela tipo un codino così e le ciquà bravissima quindi proprio da manicomio insomma cioè proprio avete preso la lettera l'outfit e l'abbigliamento e la capigliatura inerente al nome comunque tu non hai bisogno di capigliatura perché tu sei già da manicomio così amore mio però bene 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 allora buon allenamento 1-2-3-4-5-6-7-8 piano piano a uno 2-2-3-4-5-5-6-7-8-8-1-2-3-4-5-6-7-8-8-1-2-3-4-5-6-7-8-6-7-8-8-6-8-4-5-6-6-8-6-6-8-7-8-t emissions l'abbiamo un po' messa verso l'alto voi verso l'alto sull'uomo della rezza in basso siete pronte? no! no! no 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 ragazzi hanno appena terminato il primo balletto e devo ammettere ragazzi che sono state veramente bravissime e devo ammettere che mi piace già un sacco figuriamoci tutte le altre coreografie che hanno preparato per il saggio che belle che saranno vabbè intanto noi continuiamo un po' a sbirciare che cosa fanno st block? box su caratteri boh Parla dell'inizio trovo? Sì, sì, sì. Noi invece facciamo questo. Giusto. Adesso apriranno. Ma è subito questo. Anzi io mi so così. Io partiamo da sopra. Da sotto, non da sopra. Io partiamo da sotto, però questo prima ci mettiamo in posizione poi il braccio. Ok? Quindi prima un colteggio per la posizione, poi parte il braccio. Secondo me ci siamo così. Dovrebbe essere... Quindi il palco più o meno sarà grande quanto il contorno di questi tappetini. Ok, perfetto. Così almeno tutte le ragazze devono stare all'interno del quadrato, insomma. Del rettangolo, più che quadrato, scusate. Mentre che loro provano io devo ammettere a ragazze che un gruppo così affiatato era difficile trovarlo e devo ammettere che essendo poche riescono a dare tutto quanto d'accordo e soprattutto Erika è molto brava a coinvolgerle in tutto quello che fanno. Quindi le due volte a settimana che Chiara di Madanza gli piace veramente tanto. Quindi credetemi che questo gruppo è veramente, veramente solido. Quindi niente che dire. Noi continuiamo a riprendere tutto quanto ma soprattutto appena partirà la musica e ve lo farò vedere nel minimo dettaglio. Anche se però non avere l'indumento indosso è abbastanza complicato vederlo finito. Ma faremo vedere tutto quanto nel saggio che si terrà a giugno. Quindi a giugno vedrete tutto quanto. Quindi come si truccano, come si vestono dietro le quinte e lo spettacolo. Quindi faremo vedere tutto quanto nei minimi dettagli. Ok, ora praticamente proveranno Manicomio. Oh, ma c'è anche Papa Antonio! Ma ciao! Vabbè, intanto loro adesso proveranno... Eh, Manicomio giusto? Ora mi sa che proveranno con la musica. Alla prossima! Ciao! Ok, allora abbiamo intenzione di farvi ancora vedere una volta la prova e poi finalmente vi facciamo vedere la prova finale con l'abbigliamento. quindi ragazzi attenzione l'ultima volta senza abbigliamento e poi l'ultima con l'abbigliamento del Manicomio! Alla prossima! 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 Ok, ora hanno deciso di farlo ancora una volta. Chiara, riuscissi a stare ferma? Ok, ci siete? L'ultima volta? Stanno provando le posizioni finali! Wow! Wow! Sai cosa si potrebbe anche fare Chiara? Mettere un elastichino sotto? Alla prossima! Ciao! どもer��utina U伴etino Uff E Ok amici avete visto che abbiamo anche fatto il pezzo finale Tutto quanto super sistemato e super come dire preparati Ovviamente senza ancora l'acconciatura e il trucco perché vedrete al saggio Vabbè le prove del saggio sono terminate Spero che vi sia piaciuto questo video E che dire se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale Ciao e al prossimo video A proposito se volessi vedere altri contenuti all'interno della palestra dove si allena Chiara Mi raccomando scrivetemela qua sotto nei commenti perché sceglieremo i più pazzi di voi E potrete fare poi un video con noi ma non vi anticipo ancora nulla Quindi ciao Ma penso un po' quello che so che metto il vestito più bello che ho Caschetto gordo, è straneo, zaino polzesco ed ecco io esco Chiara, Chiara Figlio Diego, bussa la mia porta Che vergogna, ti prego sono un ciao 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 Ciao